Ciao, sono la dottoressa Giulia Pantalone e oggi voglio consigliarti 5 rimedi naturali per combattere il mal di gola, sempre più frequente in questo periodo dell'anno a causa dei repentini sbalzi di temperatura. Allora, potresti ricorrere all'aceto di mele, ottimo antibatterico naturale, addizionandolo a bevande calde oppure ad un bicchiere d'acqua, oppure potresti utilizzarlo per fare i suffumigi. Ancora, abbiamo la cannella, spezia da lezione antinfiammatoria, che puoi utilizzare in polvere o sotto forma di stecca per preparare delle ottime tisane, eventualmente addizionate di pepe. Infatti l'associazione è ottima anche per liberare le vie respiratorie. O ancora, il limone con cui puoi preparare un'ottima limonata fresca o diluirlo con dell'acqua per fare i rigargardismi. O ancora, abbiamo la cipolla, che presenta azione antinfiammatoria ed antibatterica e che puoi utilizzare per preparare delle tisane. Allora, devi utilizzare la buccia di metà cipolla per ciascuna tazza di tisana che vai a preparare, eventualmente addizionata di miele per migliorarne il sapore. Ed infine abbiamo lo zenzero, che è conosciutissimo nel mondo della musica, in quanto basta mangiare un pezzettino per provarne subito sollievo, ideale anche per tisane. Ti ringrazio per l'ascolto e se ti è piaciuto questo video ti invito a mettere mi piace alla pagina Facebook. Ciao, a presto!